Mantis è il marchio più conosciuto al mondo tra i visori a basso ingrandimento. Molte delle più famose aziende nel mondo utilizzano regolarmente Mantis. I nostri clienti apprezzano l'ergonomia e la tecnologia unica brevettata di Mantis. Mantis allarga la pupilla in uscita dai 3 mm dei microscopi tradizionali a 30 mm. Questo permette a chi lo utilizza di poter muovere la testa e il corpo avanti e indietro, a destra e a sinistra, fino ad ottenere una posizione di lavoro comoda. Gli operatori possono lavorare per lunghi periodi di tempo mantenendo un'alta efficienza. La tecnologia pupilla allargata consente all'operatore di indossare comodamente gli occhiali, se necessari, e di beneficiare di una minore necessità di espandere e contrarre le pupille, a vantaggio di una drastica riduzione dell'affaticamento oculare. Mantis è un visore stereo che può essere usato in produzione per ispezionare, manipolare e per qualsiasi applicazione che richiede degli ingrandimenti. Mantis può essere utilizzato in diverse applicazioni, come elettronica, meccanica di precisione, plastica, ceramica, gomma, Produzione di dispositivi medicali e dentali, aereo spaziale, automotive, laboratori odontotecnici, laboratori biomedicali, orticoltura, gioielleria, restauro artistico e trapianto di capelli. Infatti, Mantis è ideale per ogni applicazione che richieda ingrandimenti di precisione. La tecnologia Mantis è la prima scelta per molte applicazioni di ispezione e ingrandimento. Mantis, in tutte le sue configurazioni, viene usato in decine di migliaia di aziende nel mondo, con oltre 150.000 unità vendute. Grazie a tutti.